3, 2, 1, Sì! Tante volte risulta impossibile cambiare vita, abbandonare la strada dell'egoismo, del male, abbandonare la strada del peccato, perché si incentra l'impegno di conversione solo su se stessi e sulle proprie forze, e non su Cristo e il suo Spirito. Ma la nostra adessione al Signore non può ridursi a uno sforzo personale, no? Questo anche sarebbe un peccato di superbia, credere quello. La nostra adessione al Signore non può ridursi a uno sforzo personale. Deve invece esprimersi in un'apertura fiduciosa del cuore e della mente per accogliere la buona notizia di Gesù. È questa la parola di Gesù, la buona notizia di Gesù, il Vangelo che cambia il mondo e i cuori. Siamo chiamati, pertanto, a fidarci della parola di Cristo, ad aprirci alla misericordia del Padre e lasciarci trasformare nella grazia dello Spirito Santo. Grazie. 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 Grazie.